Buu! Beh ci siamo ragazzi! Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, finalmente un po' di verde, finalmente una ripresa accettabile, ma non chissà cosa, però ci accontentiamo visto gli ultimi mesi di Bitcoin, ma oggi anche di alcune criptovalute, soprattutto la 2defi che hanno iniziato un pochettino a svegliarsi, soprattutto i layer di ETH e ovviamente ETH, ragazzi. Io ho ripreso in mano il mio Bitcoin, questa volta ce l'ho fatta, è uscito anche la B, ragazzi, ve lo faccio vedere, quindi, e niente, si sale fino a Natale 2020, 28, 28, 29. Va bene, allora scherzi a parte, ragazzi, allora, bel video, quello di oggi, vi avevo già dato un po' di aggiornamento, un po' di news il venerdì scorso, con un video speciale, ovviamente su una figura di inversione che stava costruendo Bitcoin, proprio nel breve periodo, la prima figura di inversione da circa 3 mesi, ragazzi. Era una cosa molto importante, quindi ho voluto fare questo video aggiornamento, moltissimi l'avete seguito, intanto, quindi, grazie, ragazzi, come sempre, dell'affetto che mi dimostrate, e ovviamente non posso esimermi da dirvi, di lasciarmi un mi piace anche su questo video, così mi aiutate, ma... Poi ho pubblicato anche una serie di analisi su Telegram e Twitter, indicando, appunto, che c'erano dei livelli interessantissimi di ingresso, anche su CRO, per esempio, che l'altro giorno mi aveva dato un bel segnale. Insomma, ragazzi, siamo in un nuovo ciclo mensile. La scorsa settimana avevamo due ipotesi separate, cioè quella che il 7, circa oggi, di febbraio, 7.10, potevamo avere la chiusura di tutto il movimento ribassista, il mercato ci ha anticipato, ma avevamo già indicato la seconda ipotesi, cioè il fatto che, proprio grazie ad Ethereum, che ci aveva dato delle indicazioni precedentemente, potevamo un po' essere abbastanza consapevoli del fatto che, forse, proprio nella giornata del 24 di gennaio, era iniziato un nuovo ciclo mensile. Vi avevo fatto tutti gli aggiornamenti, ragazzi, e Bitcoin ha abbracciato l'ipotesi numero 2, tanto è vero che qualcuno di voi mi ha scritto nei commenti, dicendomi no, si scende sicuro. Io vi ho detto, attenzione, non ragionare così, perché se ragioni a ti fare per una squadra, a ti fare per un'ipotesi, non sei un analista, non fai bene quello che fa un analista, l'analista trova sempre diverse soluzioni. Ragazzi, è un mindset mentale, imparate a ragionare così, ve lo dico ogni giorno, se volete poi qualche giorno di questi facciamo una lezione dove vi spiego anche tutti i libri che potete andare a leggervi, se volete capire perché un analista deve strutturare le ipotesi diverse e non seguirne una ciecamente. Va bene, ragazzi, allora, Bitcoin è iniziato un nuovo mensile, ma è anche il nuovo ciclo semestrale? Questa è la vera domanda. Il rialzo è forte, però, ragazzi, sembra strano a dirlo, ma addirittura non ha neanche toccato i massimi delle ultime due settimane, Bitcoin. Quindi è ancora in trend rialzista di breve, però nel medio periodo, ragazzi, è lontano, lontano, proprio da fare un'inversione importante, perché da novembre a gennaio siamo scesi troppo e molto forti. Quindi questo è stato il problema, perciò ci vorrà un po' di tempo, ma noi non abbiamo problemi, il tempo lo abbiamo, basta che Bitcoin continui questa sua fase. Sono rientrato la scorsa settimana indicandolo in Academy con i trading system che hanno dato segnale long sulla parte holding. Non del tutto, ragazzi, ho lasciato qualche punto percentuale fuori e credo che sarà così, perché penso che l'anno 2022 sarà molto complesso da gestire, non facile, e quindi un po' di liquidità la lascerò probabilmente sempre, è un pochino, ragazzi, e poi ci sta dopo i rialzi degli altri anni. Allora, 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 c'è una super news che mi piace dirvelo, perché qualche mese fa ho parlato di un servizio, ho appena nato un nuovo più o meno social tipo Patreon, che era però solo CryptoFriendly, ragazzi, HappyFans, un progetto, tra l'altro, interamente italiano, finalmente è nata la piattaforma, e io mi sono registrato come creator. Vi faccio vedere anche quella che è la parte iniziale, eccolo qui, ragazzi, queste sono le prime pubblicazioni che sto facendo, siamo io, c'è anche Tiziano, che mi ha raggiunto, insomma, anche su questo progetto nuovo. Ci sono, ovviamente, altri utenti assolutamente in beta test, quindi in questo momento stiamo solo testando questa piattaforma, ragazzi, però, proprio grazie a questo test iniziale, pubblico alcune analisi e sono completamente gratuite, in questo momento poi saranno a pagamento mensile, perché HappyFans funziona come Patreon, però è un nuovo esperimento, ragazzi, è CryptoFriendly, AllCrypto, mi piace questa idea, ve l'avevo già spiegato, quindi volevo testare la piattaforma, potete iscrivervi gratuitamente e avrete un mese di analisi che pubblico io, anche Tiziano in questo momento, poi verranno altre persone, ma è una fase proprio di startup, ragazzi, questa fase. Trovate i link in descrizione, vi lascio il link, è facilissimo la registrazione con la mail, è semplicissima, poi ci sarà la possibilità di connettere dei wallet, sto vedendo delle cose, insomma, c'è l'anonimato, insomma, delle cose picche, vediamo che succede, ragazzi, i progetti italiani, soprattutto in un ambito del genere, che non c'entra niente con le solite questioni DeFi e tutto il resto, quindi una cosa nuova fatemela fare ogni tanto e poi ho idea di pubblicare anche dei video, un paio di video analisi proprio speciali solo per questo canale che credo di riuscire a fare appunto un paio di video analisi ogni mese. È un nuovo esperimento, ragazzi, vi lascio il link in descrizione, andiamo a vedere BTC che in questo momento sta pompando proprio in diretta e sta avvicinandosi a uno dei miei target per il mese di febbraio, troppo velocemente, molto velocemente, quindi attenderò, ragazzi, però in realtà oggi vi spiego un po' qual è la questione in atto. Allora, andiamo a vedere i BTC, poi vi mostro ITH e poi tutto quello che riguarda invece la questione della Total Market Cap della DeFi, Nasdaq, si è decorrelato leggermente negli ultimi periodi della Nasdaq, giusto così perché, come vi ho più volte detto, è una correlazione momentanea, è così, sembra essere stato, però sono solo due giorni, quindi ha poco rilevanza, questa cosa poi l'andremo a vedere perché gli indici di correlazione ha senso guardarli ogni 3-6 mesi, ragazzi, non ogni giorno, diciamo, ok? Allora, questo è il nuovo ciclo mensile di Bitcoin iniziato il 24 di gennaio, quindi 24 di gennaio, insieme a tutto il settore cripto, Bitcoin ha fatto il suo minimo per questa fase, potrebbe anche essere il minimo dell'intero ciclo semestrale di Bitcoin che è iniziato a luglio del 2021 ed ha fatto esattamente 180 e qualcosa giorni. Allora, vedete che ancora oggi io ho un'indicazione da 220 giorni, quindi di una ciclo semestrale un po' più consono alla normale durata solita di BTC, questo è stato 190 giorni, è ovviamente un semestrale puro, quindi proprio 6 mesi perfetti, ragazzi, di calendario, però solitamente Bitcoin fa annuale un po' lunghetti, quindi il semestrale può anche arrivare a 220 giorni, però ragazzi, questo ovviamente non lo sa nessuno, quando c'è una differenza del genere bisogna sempre stare molto attenti. Cosa significa? Significa che io, come vi spiegavo un po' di tempo fa, l'ultimo mese in questione me lo tengo sotto stretta osservazione, quindi prima di lanciarmi e dire sì, sicuramente siamo nel nuovo semestrale, ho voglia e bisogno di attendere un po' di tempo, che è sicuramente una quarantina di giorni e un mesetto da questo minimo, quindi in sostanza verso fine febbraio, tra pochissimo, quindi una ventina di giorni, oppure massimo la prima decada di marzo, dipende dove siamo a fine febbraio, se siamo alti a fine febbraio basterà quello lì, secondo me. Allora, questa cosa è interessante perché ci pone poi una serie di interrogativi, dove può andare questo rialzo, che poi è quello che ci stiamo cercando di porre come punto interrogativo. Allora, intanto vi ho segnato tutti quelli che sono i livelli veramente importanti di resistenza in questo momento, c'era il livello di resistenza iniziale, che era quella barra che stava facendo qui, poi l'ha breccato ovviamente, quindi li ho eliminati, quelli non servono più, poi c'era questo A42 che l'ha tenuto sotto un paio di giorni, sembra aver breccato proprio ieri durante la notte, oggi sembra confermare, quindi se nulla cambia durante la giornata di oggi, conferma il breakout in questo livello, si è rimesso all'interno di questa barra di oscillazione, questa classica, e probabilmente potrebbe andare a cercare il massimo del mese di febbraio proprio all'interno di quella barra, se è solo, se il mese di febbraio è un mese a scarsa volatilità, quindi non altamente volatile ragazzi, ve lo dico perché con l'Academy in una strategia mensile che stiamo seguendo siamo già lungo, intorno ai 36 e qualcosa, perché era il nostro dip di ingresso e i target sono proprio in area 44-45, quella zona lì che poi ovviamente gestiremo con strategie operative, perché non si può fare diversamente, quello è trading mensile ragazzi, non è holding o altro, quello è proprio trading, però è un'ottima operazione, questa dopo tre mesi che tra l'altro venivamo da operazioni negative, e questa ovviamente ci dà molto più spazio, perché è un'ottima operazione in profitto, quindi non ce la lasceremo sfuggire, però i livelli di target medi, se la volatilità in mese di febbraio non è esagerata, e sono intorno a quella zona lì ragazzi, quindi proprio questa qui, quindi in sostanza questo rialzo dovrebbe avere un po' il fiato corto e terminare nei prossimi giorni diciamo fermandosi a questo 46-47 che abbiamo qui, cioè non dovrebbe superare questa zona prima di andare a fare la chiusura del ciclo mensile, che in questo caso avverrà a fine mese di febbraio probabilmente, meno che non ci siano cose strane insomma ovviamente. Allora questo ciclo mensile tra l'altro è un ciclo che è palesemente ternario, perché ha fatto una struttura della classica navicella spaziale, che vedete fatta in questo modo, e poi probabilmente l'ultima fase. Ora sull'ultima fase ragazzi possiamo sia fare un nuovo massimo, sia non superare il massimo della campana centrale e quindi qui bisogna un po' ragionare da trader, non si può ragazzi fare queste cose. Allora se siete holder in questo momento e siete long per inizio del nuovo semestrale c'è possibilità che siamo nel nuovo semestrale quindi va bene così. Però ragazzi, se il rialzo si ferma qui e già da domani iniziamo a bloccarci, non si scende più scusate, non si sale più, ma si va in close poi il mensile, fine febbraio rischiamo ovviamente ancora un nuovo tentativo degli orsi. Perché è un nuovo tentativo degli orsi? Che sembra strano dirlo mentre per caso sta a rialzo. Perché non abbiamo neanche superato questa fase. Vedete ragazzi, questo è il massimo di metà del precedente mensile che è stato così. Quindi questo è il massimo della metà di questo mensile. Bitcoin non l'ha neanche superato. Quindi una cosa del genere vi indica anche ovviamente siamo vicini quanto è 44 e 4 ragazzi, però non ci siamo non l'abbiamo superato. Quindi questo ci dice come tutto questo trend è molto difficile da andare a recuperare. Certamente non lo faremo da qui diciamo in maniera molto semplice. Secondo me non sarà una cosa semplice. Io non credo che febbraio sia un mese ad alta volatilità, però se dovesse essere e ben venga ragazzi, perché in realtà l'alta volatilità nel mese di febbraio dovrebbe spingere Bitcoin al rialzo, non al ribasso, almeno così sembra. Quindi in questo caso avremmo poi un trend molto più pronunciato di quello che sto immaginando in questa fase. Se dovesse essere questo, ben venga ben venga perché vuol dire che certamente a quel punto siamo nel nuovo semestrale, quindi non abbiamo neanche più il dubbio, però di solito il mercato è un po' bastardino, c'è e pasti gratis non ce ne lascia, quindi io penso che tra un po' di giorni incominciano nuovamente a miscelare le carte e a rompere un po' le scatole perché renderanno un po' complessa la questione. Benissimo, comunque se qui dovessimo essere nel nuovo semestrale c'è addirittura la possibilità di fare nuovi massimi, sì, c'è un utente che mi ha fatto questa domanda di voi, me l'ha scritta nei commenti ragazzi, scrivetemi nei commenti quando avete queste domande, io poi ogni tanto le prendo qualcuna. È possibile fare nuovi massimi? Teoricamente in base all'analisi tecnica, sì, perché non ci sono inversioni di trend di lungo periodo, perché non siamo scesi sotto il minimo dell'anno scorso, cioè del 29, quindi addirittura potremmo addirittura fare nuovi massimi. Ci credo poco, però Trendy is my friend e io lo seguo sempre, lo sapete benissimo. Andiamo a vedere quello che invece sta facendo TH che ho in serbo una serie di video ragazzi su Ethereum, perché Ethereum è la mia preferita di nuovo anche nel 2022 insieme ad altre coin faremo una super analisi su questa cosa, un super video che riguarda proprio i megatrend che io ritengo importantissimi per il 2022, ma TH, già per l'anticipo, uno spoilerone, TH continua ad essere per me una super cripto anche nel 2022. Poi non subito, ho proprio un paio di mesi di attesa, dopodiché spareremo una super video analisi ragazzi, che vedremo un po' se sarà corretto. Io già in testa ce l'ho, poi ovviamente voi sapete, tra il dire e pare bisogna seguire il mercato, tra il dire e pare c'è di mezzo l'orso in questa cosa diremo. Allora, TH, anche su TH stessa identica struttura di Bitcoin, quindi c'è stato probabilmente, non abbiamo la sicurezza, perché vedete, TH, vede anche qui come io ho posizionato quello che riguarda una semestrale lungo, perché mi tengo sempre la seconda ipotesi, se ovviamente non siamo in un nuovo semestrale già dal 24 di gennaio, perché 24 di gennaio siamo a 180 giorni, io mi tengo sempre un po' un lasso di tempo più avanti, in maniera tale da avere anche questa seconda ipotesi, se dovesse iniziare a bloccare questa fase rialzista, so quello che sta succedendo ragazzi, avete capito, quindi posso correre al riparo, mettere ovviamente le armi, cambiare tutto quello che sono le mie strategie in tempi estremamente brevi, perché sono consapevole di quello che sta capitando, allora in ogni caso sempre in maniera corretta, da qui anche su TH abbiamo un nuovo ciclo di natura mensile, vedete che come sempre anche su TH mi porto con dei cicli maggiori proprio per modificare l'ipotesi che abbiamo fatto su Bitcoin, ad avere un punto di vista diverso, una nuova angolazione ragazzi, così bisogna ragionare, non finirò mai di dirvelo di ripetere in ogni video, mille mille video, ve lo dico queste cose ragazzi, allora anche qui 39233 il primo livello importante, secondo me complesso da superare, addirittura TH i massimi di metà ciclo precedente li ha a 3450 ragazzi, quindi capite bene come siamo lontani dalla questione di insomma avere dei segnali proprio duraturi di questo rialzo, quindi lo seguiamo, assolutamente io sono fiducioso, sono già, logo ve l'ho detto insomma da prima, anche in Academy sanno tutto perché pubblico ogni cosa, però sono in allerta perché Bitcoin potrebbe fermare tutta questa fase e poi ritornare in chiusura di febbraio a tentare una nuova strada ribassista è un po' il dubbio e quindi io mi tengo protetto ragazzi da questo punto di vista, vi faccio vedere questa cosa anche perché sul grafico della famosa total market cap della DeFi c'è questo incrocio su queste diciamo tipologie di media, ovviamente è un crocio molto lungo perché qui siamo su medie 21,11 ma sono sul weekly, quindi ovviamente ragazzi è un trend molto più ampio però qui c'è uno scodio ragazzi, intanto il pullback di zona 140 miliardi che era stato il primo segnale negativo, poi qui c'è stato questo break, break che poi non è andato in realtà a buon fine ma perché siamo nella fase di chiusura di questo ciclo che questo è probabilmente un semestrale da 200 giorni e anche qui la fase di rimbalzo. Ora bisognerà vedere ragazzi però fintanto che siamo sotto i 140 billion e queste due medie non canterei vittoria in questa zona qui è proprio questo che mi preoccupa, non vorrei assistere a una cosa del genere prima di una eventuale e vera reazione del mercato, è proprio questo che mi spaventa e una cosa di questo tipo potrebbe essere magari non profonda, non con un doppio minimo però potrebbe essere proprio la chiusura del mese di febbraio prima di iniziare magari una nuova fase. Ecco il motivo per il quale in questo momento sono fortemente attente predilico tra le altre cose un po' di più bitcoin fino alla fine di febbraio rispetto alle cripto in generale, le più piccole proprio perché ho paura della volatilità. Andiamo a vedere anche Nasdaq, poi vi faccio vedere la total ma che scusate la dominance della di bitcoin per vedere a che punto siamo perché anche quella è estremamente indicativa. Allora come voleva si dimostrare scherzosamente Nasdaq la scorsa settimana ha tentato rialzo e ha dato addirittura sopra i livelli che vi avevo indicato ma poi è ovviamente è crollato un po' come ci aspettavamo quindi ha provato a recuperare un po' questa rossa qui ma non c'è affatto ovviamente si è riportato in down. Questo fatto che Nasdaq sia ancora deboluccio bitcoin invece abbia iniziato un nuovo ciclo è interessante perché dovesse in effetti Nasdaq riprendere una nuova fase rialzista darebbe anche una notevole pump poi a bitcoin stesso. Cosa c'è da chiedersi però ragazzi? Qui bisognerà un po' ragionare perché intanto abbiamo questa media mobile che a questo punto è stata breccata in maniera definitiva. Vi ricordo che questa media mobile sul Nasdaq è stata breccata solo l'ultima volta intorno al 9 di marzo 2020 quindi proprio durante il pieno della pandemia. Questo per farvi capire l'importanza di questa media sul ciclo sul time frame quickly quindi un eventuale pullback di questa livello per Nasdaq è assolutamente naturale e però non è detto che riuscirà a farcela quindi poi potrebbe andare a chiudere tutto questo movimento con una specie di chiusura del ciclo annuale di Nasdaq proprio intorno alla zona di marzo aprile quindi io credo che se insomma Nasdaq non riesce ad avere tanta forza poi addirittura incomincia un trend ribassista non so se riusciamo a resistere ecco perché vi sto dicendo che l'anno 2022 lo vedo estremamente complesso da questo punto di vista ma mi è piaciuta tantissimo la reazione di bitcoin proprio perché di nuovo si prova a staccare dalla questione dalla questione legata ai mercati americani ci sta ovviamente legata un po' ai dati macro che sono usciti la settimana scorsa che hanno un po' indicato che forse questo innalzamento dei tassi si ferma qui cioè si ferma alle prime abisaglie ma non continua questo è sempre l'argomento di cui vi ho parlato un po' di settimane fa in un video molto importante ed è da tenere d'occhio allora questa è questa fase andiamo a vedere la dominance perché la dominance sta iniziando una nuova fase e la nuova fase della dominance sarà un po' la risposta a tutto ragazzi allora la dominance probabilmente difficilmente salirà di nuovo ai massimi di 70 punti quelli che abbiamo visto praticamente ormai due anni fa un anno e mezzo fa dicembre 2020 però un ciclo lo inizia ragazzi è l'inizio di un ciclo non è certamente adatto con sole due settimane in questo modo ora io penso che si riesca nuovamente a toccare questi livelli se inizia un nuovo ciclo annuale da 500 giorni io penso che bitcoin voglia andare a toccare questi livelli qui quindi intorno ai 50 se lo fa abbiamo sempre due strade o lo facciamo adesso con il nuovo ciclo semestrale pompando alla grande con bitcoin che può fare alla grande o purtroppo ragazzi lo facciamo nella fase finale del ciclo annuale di bitcoin cioè quando crasha tutto in pratica verso dopo la metà dell'anno va bene poi vedremo se sarà così ovviamente noi seguiamo sempre il trend quindi al di là delle idee generali poi ragazzi bisogna pure vedere insomma non un po' come vanno i mercati però questa cosa sulla dominance tenetela sempre in mente perché molto è molto molto particolare al momento non abbiamo grandi inversioni però è vero che la dominance ha fatto un triplo minimo ha fatto una reazione si sta cercando di portare al di sopra di queste medie mobili e probabilmente ha bisogno di uno due settimane di fare un pump di questo tipo una cosa del genere può avvenire se bitcoin pompa alla grande ad esempio c'è un'approvazione di un etf su btc o qualcosa che riguarda a livello istituzionale proprio btc quindi la adoption magari di un qualcosa che riguarda btc come moneta di scambio a quel punto insomma un qualcosa che riguardi solo bitcoin e di meno ethereum e le top five della diciamo del mercato quindi dobbiamo dovremmo vedere ethereum leggermente più debole bitcoin che va su il problema vero è proprio che eth ragazzi è in questo momento magari un po più deboluce però non demorde perché le politiche che sono state fatte l'anno scorso su eth sono importantissime e hanno cambiato radicalmente la struttura di ethereum e siccome ethereum ragazzi pesa quasi il 20 per cento della dominance dell'intero mercato cripto capite bene come se bitcoin deve salire di dominance e da ethereum che prende la grande fetta ragazzi che ci riuscirà non ci riuscirà non lo so però è una gran sfida io quoto per la questione di bitcoin pompa con una dominance che mi va a fare la prima impennata del ciclo annuale che mi sta bene poi da lì probabilmente dovremmo riassettare nuovi portafogli cambiamenti radicali nel settore cripto e ci sto questo qui secondo me è così ma c'è ancora tempo per parlarne ragazzi questo è quello che dobbiamo aspettarci questa settimana attenzione a determinati livelli che vi ho indicato quella zona di bitcoin monitoratela attentamente per quanto riguarda il breve nel medio periodo siamo ancora down nel breve siamo long nel lungo periodo siamo in barra di congestione quindi non ci sono stati inversioni radicali questo proprio risponde alla famosa questione bear market si bear market no se lo valutiamo in termini di analisi statistiche e quindi proprio con i dati matematici ancora non ci siamo ma ve lo avevo già detto al di là del fatto che sicuramente l'anno 2022 è un anno interessante e comunque molto complesso secondo me da gestire siete long sul mercato siete riusciti a entrare non siete mai usciti qualcuno di voi dirà ma a quelli che erano usciti sono riusciti ad entrare cosa ne pensate quale sarà la cripto che pompa di più se siamo nel nuovo semestrale per il nuovo semestrale un almeno tre mesi di rialzo ce li regala ragazzi e tre mesi di rialzo per btc sapete che succede e sapete che può succedere siamo nel nuovo semestrale lo vediamo nelle prossime settimane ciao a tutti ragazzi e buon inizio settimana